In studio, Catiuscia Carpentieri. Il punto della situazione sull'emergenza idrica nell'isola. Negli invasi, dice, c'è solo il 25% dell'acqua e dentro fine mese la situazione peggiorerà. L'acqua negli invasi in Sicilia sta lentamente diminuendo, man mano che si consuma e non piove. Al momento è al 25% del totale e dentro il mese di luglio la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente, come da scenario elaborato. E' quanto dichiarato in un'intervista alla DN Cronos da Salvo Cocina, capo divertimento della protezione civile in Sicilia e capo della cabina di regia per l'emergenza siccità nell'isola. Ci sono territori in cui le reti idriche perdono anche il 50% dell'acqua e casi virtuosi come quelli di molte reti urbani di comuni dell'Ennese e del Nisseno, dove le perdite sono state abbattute con interventi di rifacimento. E a correre il rischio più grave sono le colture arboree. Però a fronte di una situazione seria c'è un piano di protezione civile regionale di interventi immediati entro l'estate per la gestione dell'emergenza, con riuso e ripresa di pozzi abbandonati, ristrutturazione di pozzi e di pompe di sollevamento, nonché un piano di potenziamento del parco autobotti pubbliche già in attuazione. A cui farà seguito un piano a medio termine con ulteriori nuovi pozzi e il revamping dei dissalatori ed infine un piano a lungo termine per le grandi opere infrastrutturali che prevedono investimenti cospicui che fanno anche parte del PNRR, ad esempio. Lo scenario peggiore ci dice che la situazione ad agosto e settembre sarà critica, continua ancora Cocina, quindi la priorità viene data nel campo agricolo alla irrigazione di soccorso, proprio per evitare la morte degli arbusti, per essere chiari, evidenzia Cocina. Ad intervenire anche i vertici di Anci Sicilia che scrivono oggi gli invasi sono i minimi storici, l'agricoltura e il turismo rischiano una battuta d'arresto e soprattutto i cittadini di alcune decine di comuni continuano a subire un razionamento dell'acqua e altri di un centinaio di comuni una riduzione dell'acqua che va avanti da mesi. Ma Cocina dice, ad oggi nell'ambito del turismo non abbiamo segnalazioni di situazioni di crisi, con specifico riferimento alla provincia di Agrigento. Intanto sono 92 i milioni di euro in arrivo in Sicilia per la realizzazione di infrastrutture idriche prioritarie. Si tratta del primo stralcio di finanziamenti destinati ai 49 interventi per complessivi 1,6 miliardi inseriti nel piano idrico della regione siciliana, interamente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e inglobato nel piano nazionale per la sicurezza del settore idrico. La regione siciliana ha avviato nelle cabine di regia il tema del ripristino immediato dei dissalatori. Purtroppo il Dipartimento Nazionale non li ha voluti inserire tra gli interventi urgenti, ha concluso Cocina. Nuovo stop per il TMB di Lentini, non possono più conferire i rifiuti. 200 comuni siciliani ripiommano nell'emergenza rifiuti. Da oggi infatti il TMB di Lentini non può più accogliere i rifiuti e dunque questo significa impossibilità di conferimento, ma soprattutto comuni in difficoltà, comuni che ancora non siano del tutto ripresi da quanto accaduto solo la settimana scorsa, quando già l'impianto aveva avuto il primo stop. Ieri sera un vertice urgente voluto dal presidente della regione siciliana Renato Schifani nella sua veste anche di commissario per l'emergenza e rifiuti in Sicilia per cercare immediatamente una soluzione, soluzione che però ancora non è arrivata. La Sicula Trasporti ieri attraverso i commissari ha fatto sapere che dopo aver riavviato l'impianto di TMB il 26 giugno scorso, secondo quanto previsto all'ordinanza firmata proprio al presidente Schifani, ha ricevuto la disponibilità al conferimento e l'avvio delle procedure di omologa da sole due delle quattro società gestori di scariche citate dall'ordinanza, le impianti SRR Auto 4 di Caltanissetta e la Catanzaro Costruzioni. Ciò ha avuto come conseguenza la saturazione degli spazi disponibili per lo stoccaggio, dunque al momento nelle TMB di Lentini non si può materialmente proseguire l'attività di trattamento e quindi di ricezione. Commissari e la Sicula Trasporti che chiedono anche una visita ispettiva al fine di constatare quanto affermato da parte degli organi di controllo del territorio come Arpa Sicilia, Arpa UOS, Attività Produttive Catania, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Aspo di Catania. Domani pomeriggio i funerali di Vincenzo Lantieri, il bambino di 10 anni precipitato in un pozzo artesiano a Palazzolo a Creide. Saranno celebrati domani alle 16.30 nella Basilica di San Sebastiano a Palazzolo a Creide i funerali di Vincenzo Lantieri, il bambino di 10 anni morto dopo essere precipitato giovedì scorso in un pozzo artesiano mentre era in visita in una fattoria didattica organizzata dalla Fondazione Anfas Doniamo Sorrisi. La messa sarà celebrata dall'arcivescovo di Siragusa, Monsignore Francesco Lomanto. Per domani a Palazzolo a Creide il sindaco Salvatore Gallo ha proclamato il lutto cittadino. Vincenzo è morto per annegamento, questo quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri dalla dottoressa Francesca Berlich incaricata dalla procura di Siragusa alla presenza dei medici di parte nominati dalle 9 persone iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Il PM Davide Viscardi, che dirige le indagini coordinate dal procuratore Sabrina Gambino, ha iscritto il proprietario del terreno dove si trova il pozzo e dove stava avvenendo il campus estivo, Giuseppe Giardina. La 54enne educatrice, che si è lanciata nel pozzo per tentare di salvare Vincenzo, e altri sette operatori presenti in quel momento. Accompagnavano oltre Vincenzo anche un'altra ventina di ragazzi, alcuni dei quali disabili. La procura di Ragusa ha disposto l'autopsia, pertanto non saranno celebrati domani mattina le 10.30 funerali di Salvatore Giompiccolo, l'uomo di 53 anni morto ieri a causa di un incidente sul lavoro nell'azienda Vinicola sulla Comiso Chiaramonte, della quale era dipendente. La salma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo a carico per atto dovuto dell'autista del tir che ha travolto il 53enne durante alcune manovre nel piazzale dell'azienda dove lavorava la vittima. L'autista, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, lo ha travolto con le ruote posteriori, convinto che l'area fosse libera. L'indagine è stata aperta al fine di eseguire l'autopsia necessaria per stabilire le cause della morte e le eventuali responsabilità. Un ginecologo catanese è stato ferito questa mattina durante una rapina. L'uomo era in macchina quando è stato raggiunto da due ladri a bordo di uno scooter che volevano prendergli l'orologio. Era a bordo della sua auto, in via Quecassa, intorno alle 7 di questa mattina, un medico catanese che è stato ferito alla coscia sinistra. Un tentativo di rapina. Volevano rubare il Rolex. Il medico ha reagito e i rapinatori, che lo avevano affiancato, hanno sparato. E' tutto successo proprio all'alba. Intorno alle 7 il medico stava passando da questa strada che qualche ora dopo si sarebbe popolata di tanti bagnanti perché qui vengono a fare il bagno. Alle 7 non c'era quasi nessuno ed è quello che è accaduto stamattina. Il medico si è recato in maniera autonoma al pronto soccorso del Canizzaro e è stato subito preso in cura dai medici. È una zona abbastanza tranquilla, quindi stupisce quello che è accaduto? Effettivamente sì, molto tranquilla. È sempre stata tranquilla questa zona. Lei quando è arrivato stamattina già era accaduto tutto? C'era la polizia ferma che non faceva passare le macchine. Che idea si è fatto? No, all'inizio non sapevamo niente, poi dopo ci hanno raccontato cosa era successo. Anche perché a quell'ora non c'era praticamente nessuno qui? No, ancora non c'era nessuno. L'uomo, un noto ginecologo, è stato portato alla Trauma Center all'ospedale Canizzaro dove è stato sottoposto alle inaggini diagnostiche. È stato poi preso in carico dai chirurghi vascolari per il trattamento della ferita alla coscia sinistra. Non è in pericolo di vita. Il medico vittima della rapina sarà ascoltato appena possibile dagli inquirenti alla squadra mobile di Catania che nel frattempo hanno effettuato i rilievi sul posto e sulla macchina nella quale viaggiava al momento della rapina. L'orologio Rolex che è stato rubato ha un valore di circa 40.000 euro. Il ginecologo era appena uscito dalla sua abitazione che si trova proprio vicino al luogo della rapina quando è stato affiancato da due uomini a bordo di uno scooter. Andiamo ad Acate. Due anni fa scompariva Dauda Diane dopo aver girato un video all'interno di una betoniera nell'azienda di Calcestruzzi dalla quale è sparito. I sindacati oggi lo ricordano. Due anni fa spariva Dauda Diane nel nulla senza un come e un perché. Una manifestazione dell'Unione Sindacale di Base è stata organizzata ad Acate nell'ambito dell'anniversario della scomparsa di Dauda Diane, 37 anni e voriano sparito dopo una giornata di lavoro nell'azienda di Calcestruzzi SGV il 2 luglio 2022. Il sindacato SB lo ricorda con un sit-in con la slogan Noi non dimentichiamo. Sono trascorsi due anni e non è stata restituita alcuna verità, nemmeno processuale. La procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta e le guendagini sono state affidate ai carabinieri coordinati dal sostituto procuratore Silvia Giarrizzo che ha portato l'iscrizione dei titolari del cementificio per atto dovuto nel registro degli indagati per consentire sequestre e perquisizioni nei terreni della ditta e nelle proprie età dove Livoriano ha trascorso le ultime ore di vita. Le lancette si sono fermate al 2 luglio 2022. Moglie e figlia di Dauda, parenti e amici, sono rimasti sospesi in attesa di conoscere che fino ha fatto il 37 anni il quale aveva già acquistato il biglietto per tornare in costa d'Avorio dalla famiglia. A moglie e figlia sarà destinata una raccolta fondi lanciata dal segretario dell'USB provinciale Michele Mililli. Anche il segretario provinciale della CGL Peppe Scifo ha scritto una lettera per ricordare Dauda il quale registrò dei video all'interno del cementificio mentre si trovava al lavoro inviato ad un amico e al fratello in costa d'Avorio ripetendo sempre qui il lavoro è morte, poi più nulla. Una ferita nella coscienza di una comunità indifferente alle violenze e allo sfruttamento ha commentato il segretario Scifo. Dauda ricordato della CGL non aveva alcun rapporto di lavoro ufficiale con l'azienda eppure si trovava dentro una betoniera e stava utilizzando un martello pneumatico. Quel video rimane l'ultima e unica traccia di Dauda eppure si legge nella nota di Peppe Scifo la scomparsa ci riporta ai metodi già conosciuti in questa nostra terra. La lupara bianca, l'eliminazione di ogni traccia perché va cancellato ogni elemento che possa ricondurre le cose denunciate. Se questo è quello che è accaduto e il mancato ritrovamento di traccia di ogni tipo compreso l'eventuale corpo è chiaro, ha denunciato il segretario provinciale della CGL Peppe Scifo che ci troviamo di fronte a fatti di enorme gravità e la pericolosità di soggetti in libertà che operano da criminali dentro l'economia ufficiale testimoniando quell'intreccio tra criminalità e affari apparentemente leciti. Torniamo a parlare di quanto è accaduto sull'Isola delle Femmine anche Legambiente esprime una ferma condanna e chiama in causa l'assessorato regionale al territorio e ambiente intervengono anche il DJ del party, un ex sotto ufficiale della guardia costiera e la proprietaria dell'isolotto. Anche Legambiente Sicilia esprime la propria condanna per quanto è accaduto all'Isola delle Femmine location scelta pare per una festa privata da due medici gemelli che avrebbero così deciso di festeggiare il proprio compleanno. Il condizionale è d'obbligo perché gli accertamenti delle forze dell'ordine sono ancora in corso e perché sia il DJ Maurizio Giglio per anni dipendente della guardia costiera sia la proprietaria dell'Isola, la Marchesa Paola Pilobacci hanno smentito che si trattasse di un party. Quello che Legambiente condanna sono comunque i danni provocati agli habitat e alle specie nidificanti. Manifestiamo solidarietà alla Lipo che gestisce la riserva naturale e auspichiamo, dicono dalle Gambiente, che l'assessorato regionale al territorio intervenga. Evidentemente c'è stato qualcosa che è sfuggito di mano a qualcuno ma in realtà c'è una grande irresponsabilità da parte di chi ha organizzato quello che è stato fatto sull'isolotto. Ci sembra veramente un atto di arroganza senza precedenti. Noi stiamo premento affinché l'assessorato regionale del territorio ambiente condivida la strategia sulla biodiversità aumentando il 30% le aree protette nella nostra regione secondo quanto previsto appunto dalla strategia europea sulla biodiversità. Si tratta di ambienti molto fragili che hanno bisogno di essere assolutamente protetti. Non era una festa, afferma il DJ Maurizio Giglio. I gemelli avevano l'autorizzazione della Marchesa per realizzare un video che esaltasse le bellezze dell'isola e nessuno ha lasciato sporcizia. Sono stato un militare della Capitaneria, non avrei mai partecipato ad una festa sull'isolotto, ha concluso. Non capisco la barahonda, ha aggiunto la Marchesa, che ha smentito però che si trattasse di una festa di compleanno di due medici. Sono stata io, ha detto, ad autorizzare i miei nipoti a realizzare un video per promuovere l'isola per fini commerciali. La terza sezione penale del Tribunale di Palermo ha assolto quattro poliziotti e tre guardie giurate e imputate nel processo per corruzione avvenuta al commissariato di Partinico. Gli eventi risalgono al 2017. L'indagine fu avviata a seguito di una serie di esposti anonimi. Tra gli indagati vi era Antonio Gasperi Di Giorgi, originario di San Cipirello, che al tempo dei fatti era ispettore capo a Partinico e ora ricopre il ruolo di sostituto commissario della Polizia di Stato a Palermo. Di Giorgi era accusato di rifiuto di atti d'ufficio in concorso e rischiava una condanna a sei mesi di reclusione. E' stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste con Di Giorgi. Sono stati assolti anche gli altri poliziotti imputati. Un solo poliziotto ha patteggiato una pena in questa vicenda. E' Pietro Tocco, 59 anni di Alcamo, che in un procedimento separato ha patteggiato una condanna a quattro anni di reclusione. Cambiamo decisamente argomento. Parliamo dei voucher sportivi perché la Regione assegna oltre 14.000 voucher. Sono 14.247 giovani siciliani di età compresa tra i 6 e i 16 anni che potranno fare sport fino alla fine di novembre del 2024 con il sostegno della Regione siciliana. L'assessorato del turismo ha pubblicato la graduatoria dei beneficiari che otterrà nel voucher di 50 euro al mese, istituito dal governo Schifani per consentire anche ai ragazzi delle famiglie meno abbienti di praticare una disciplina sportiva. Erano state poco più di 6.000 l'anno scorso alla prima attuazione della misura. Il voucher è destinato ai giovani fino a 16 anni di età che svolgono attività sportiva e fanno parte di nuclei familiari con i 6 non superiori a 12.000 euro annui. Può essere utilizzato esclusivamente per l'iscrizione e la partecipazione alle attività sportive delle associazioni a società dilettantistiche con sede legale in Sicilia, affiliate a federazioni sportive o enti riconosciuti dal CONI oppure dal CIP. Le attività si svolgeranno da luglio fino al 31 novembre 2024 con esclusione del mese di agosto. La grande affluenza ha stabilito di aumentare le risorse, le abbiamo triplicate, e contiamo di partire col prossimo bando in tempi brevi, nel senso non appena abbiamo concluso la misura di quest'anno, in maniera tale da poter cominciare il prossimo anno a derogare i voucher in un periodo che sia, per esempio, mi piacerebbe cominciare da gennaio, febbraio, insomma inizio inverno. Gli uffici sono sul pezzo, ci stanno lavorando e in tempi brevi erogheremo anche quella traccia di dicembre. Abbiamo dovuto purtroppo lasciare fuori un numero esiguo di ragazzi, però io non vorrei che restasse fuori nessuno, perché non sono stati sufficienti i fondi. Alcuni anni fa ha perso entrambe le braccia in un gravissimo incidente sul lavoro. Questa mattina ha attraversato a nuoto lo stretto di Messina per lanciare un duplice e importante messaggio. È la straordinaria impresa del marchigiano Andrea Lanari. A causa di un incidente sul lavoro ha perso entrambe le braccia, schiacciate sotto una pressa priva di protezioni. Ma questa mattina ha attraversato a nuoto lo stretto di Messina, un'impresa unica che l'uomo ha potuto affrontare grazie alle due protesi agli avambracci. Il marchigiano Andrea Lanari, accompagnato dal figlio Kevin, è partito alle 11 dal pilone di Messina ed è arrivato a Villa San Giovanni, al termine di una lunga nuotata di tre chilometri e mezzo, nell'ambito dell'iniziativa La Sicurezza Conquista lo Stretto, patrocinata dalla città di Messina e dall'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Lo scopo di questa iniziativa è innanzitutto di promuovere attraverso l'attraversato dello stretto di Messina la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'idea dello stretto di Messina nasce attraverso una sfida accettata da un mio collega di lavoro, testimoni al formatore per la salute e la sicurezza, che lui l'aveva fatto tempo fa, mi ha proposto questa sfida e io e mio figlio Kevin lo abbiamo accettato di ben volentieri. La preparazione è che è iniziata l'anno scorso in mare, continuata quest'inverno in piscina per diverse ore settimanali, finita in mare per testare le condizioni delle correnti e soprattutto anche la tenuta. Un messaggio importante è quello che Andrea ha voluto lanciare, bracciata dopo bracciata. Vorrei lanciare un messaggio a tutti i giovani e a tutti i ragazzi di non abbattervi. I problemi la vita te li mette davanti, ma se uno ha grinta, volontà e tanta costanza, può risolvere, può trovare anche delle forze inaspettate. Vorrei anche lanciare un appello a tutti i datori di lavoro, a tutti gli imprenditori, che la sicurezza spesso e volentieri viene vista come un costo, ma sinceramente è qualcosa di utile per fare la differenza tra tornare a casa sani e salvi la sera, oppure purtroppo, come fanno troppe persone sui luoghi di lavoro, non fare più ritorno a casa. Evviva! Dieci le misure cautelari della Guardia di Finanza di Catania, volte al contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso nell'ambito dell'operazione Filo Conduttore. Bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso e al fine di agevolare l'associazione Pillera Puntina. Nell'ambito dell'operazione Filo Conduttore, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania ha consegnato alla giustizia dieci soggetti, di cui quattro in carcere, ovvero gli indagati che hanno un ruolo principe nell'inchiesta, e sei agli arresti domiciliari, illegale rappresentante della ditta individuale di Mr. Bianco, due dipendenti della società fallita di Tre Castagni, un dirigente e due dipendenti dell'operatore economico affidatario delle commesse alle società riconducibili al sodalizio criminale. Sono stati sequestrati beni e risorse finanziarie per 1.250.000 euro, corrispondente al valore stimato dei lavori sottratte dell'impresa fallita. L'indagine ha preso vita nell'ambito del fallimento, a fine 2018, di una società di Pedara, impegnata nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti telefonici, gravata dagli enti debiti erariali, per circa 8 milioni di euro, e durante la quale erano già stati indagati gli stessi soggetti, di cui quattro tutti amministratori di fatto e in diritto della società accusati di aver distratto il compegno aziendale della fallita società a beneficio di un nuovo organismo societario, con sede legale a Tre Castagni, sempre riconducibile agli stessi soggetti. Nel 2021, dopo la segnalazione del progressivo calo delle commesse da parte d'amministratore giudiziario nominato per la gestione della società sequestrata, le fiamme gialle etne hanno scoperto lo stesso modus operandi, lo svuotamento dell'operatività aziendale con il progressivo depauperamento dei pacchetti dei contratti di prestazione di servizi dirottati in favore di due nuove realtà imprenditoriali, una SRL con sede a Mascaluccia, è socio unico, un soggetto legato strettamente a vincoli parentali con il figlio della sorella del capo clan, Turi Pillera, è una ditta individuale con sede a Mister Bianco, costituita ad hoc e con a capo un prestanome. Le società, è stato accertato dal Guardia di Finanza, erano tutte riconducibili nella famiglia mafiosa. Il fine ultimo era il riciclaggio di denaro. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, ritorneremo subito dopo, a tra poco. Bentornati in studio, c'è la cronaca, un corriere della droga è stato fermato a bordo della sua auto a Santa Croce Camerina dalla squadra mobile di Ragusa. Avrebbe fruttato oltre 30.000 euro se messa sul mercato la droga sequestrata dalla squadra mobile di Ragusa e trasportata da un corriere di 45 anni, nato a Cosenza ma residente a Santa Croce Camerina. L'uomo è stato beccato a bordo della sua auto con quasi 2,5 kg di hashish e marijuana nel corso dei servizi di controllo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore. Il 45enne era già noto per precedenti e utilizzava la sua casa come base operativa trasformata in un market della droga. La polizia aveva notato continui movimenti di persone dalla sua abitazione. Venerdì scorso, quando è uscito da casa, la polizia lo ha inseguito mentre imboccava la Santa Croce Camerina Comiso cercando di fare perdere le tracce ma è stato fermato e sottoposto a controllo. Nell'auto gli agenti hanno trovato uno scatolo in cartone con un'etichetta adesiva di poste italiane recante il nome del mittente residente in provincia di Monza Brianza. La droga era stata spedita dal nord Italia destinata al 45enne che l'avrebbe ritirata proprio nel punto posta della città casmenea per poi essere smerciata nelle piazze della provincia di Ragusa. Anche la perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'uomo ha permesso di rinvenire altra droga che è stata sequestrata. C'è chi è a favore e chi ha perplessità sul possibile spostamento del mercato rionale di San Giorgio a Catania. Noi siamo andati sul posto. Spostare o no il mercato settimanale di San Giorgio Librino a Catania è un dubbio che da tempo accompagna sia i venditori che i fruitori ma anche le istituzioni. Dove sorge adesso il mercato che ha problemi non indifferenti al traffico e alla viabilità. Serve dunque un'area più consona come tra l'altro emerso questa mattina durante un non sopralluogo nel sesto municipio Librino Zerisa San Giorgio voluto al consigliere comunale Riccardo Pellegrino insieme al presidente del municipio Francesco Valenti e alla presidente della commissione consigliare mercati storici la consigliera Serena Spoto un'idea che per lo più piace a cittadini e a qualche ambulante. Penso che sarebbe un'idea utile. Il mercato quando riguarda la situazione legale è abusivo perché le arterie principali non si possono chiudere per cui per i mercatini far lavorare l'operatore bene automaticamente serve uno spazio il comune deve trovare lo spazio sistemare la gente che lavora per bene. Penso che ormai le persone comunque sono abituate a venire in questo mercato e quindi sarebbero dei disagi. Potrebbe andare anche bene perché qua non è che poi va tanto bene per cui va bene così. Ci sono dicono anche dei colleghi suoi qui abusivi quindi sarebbe anche un modo per regolarizzare il tutto. Questo qua io non lo so se ci sono abusivi perché noi siamo regolarizzati però il resto non lo so. Per me è la stessa cosa cambiare o restare qua non cambia niente. Il fatto che ci sia magari un parcheggio può aiutare le persone a venire? Questo sicuramente influisce molto. Qualcuno dice anche troppi abusivi? Quello io non glielo sto dicendo non glielo voglio dire perché però non si ci può fare niente con quella perché devono lavorare pure. A chiedere lo spostamento anche il presidente della municipalità. Liberare Viare Giovanni de Verazzano dal mercatino rionale e spostarlo in un luogo più adeguato è qualcosa che abbiamo sempre chiesto al consiglio di municipio. L'amministrazione sta lavorando a ridisegnare le mappe delle aree mercatali della città e anche in questo caso si sta valutando l'area di Via Le Grimaldi dove dovrebbe essere spostato il mercato. Entro l'anno faremo qualcosa di concreto pensiamo di ridurlo così com'era e cercando di mettere magari un poliziotto municipale che ci possa aiutare all'organizzazione interna del mercato stesso. Vittima di una fake news Marcello Crucetta racconta ad MTG con ironia quanto accaduto Marcello Dei Gelati lancia un messaggio sulla prevenzione. Poco dopo mezzogiorno la notizia che ha lasciato increduli tutti i modicani Marcello Dei Gelati non c'è più. Lo storico gelataio icona dell'estate modicana in sosta in seconda piazza e con il suo sorriso inconfondibile è al centro però di una fake news sì perché Marcello fortunatamente è vivo vegeto sta bene e ce lo hanno confermato prima i figli e poi il diretto interessato sì perché lo abbiamo intervistato sì che sono a casa con mia moglie sì per fortuna però sapere che le persone ti vogliono bene che ti stimano tantissimo è sempre anche un'altra bella realtà e quindi le notizie sono state una più belle dell'altra però mettiti nei panni dei familiari che ho in tutta Italia in Germania all'estero che praticamente hanno sentito questa notizia ti lascia immaginare che i telefoni stanno prendendo fuoco completamente anche mio figlio che è l'università a Perugia che ci siamo sentiti dieci minuti prima dieci minuti dopo mi chiama ti lascia immaginare che quello che è successo insomma ecco io sto male per carità non è che sto da Dio però sono in attesa della biopsia per vedere se mi devono fare la chemio se devono fare un intervento immediato o curarmi con le medicine però per adesso sono a casa e sto facendo le stesse cure che mi facevano a casa in ospedale infatti io sulla prevenzione voglio dire una cosa che mi sta a cuore dirlo perché sono stanco di ripeterlo io fino a sei settimane fa non avevo nessun malore non avevo niente però che è successo è successo che perdevo peso quindi la prevenzione è una cosa importantissima di non aspettare all'ultimo minuto per chiudere con il mio avvio sai che cosa ti dico se qualcuno ha messo in giro Macello Mosso Macello Mosso anti che ricevono pur sia la morte a chi l'uva more sugli anni che ci crescono quindi è un auspicio di buona fortuna tutto quello che è successo sicuramente che mi aiuterà a crescere e ad andare avanti chiudiamo qui questa edizione di MTG grazie per averci scelto come sempre e buon proseguimento con i programmi di Video Mediterraneo buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti